La mia presenza oggi è di condividere con Lega Ambiente e con diverse realtà la questione dell'immigrazione e in particolare quella ambientale, di dare un contributo tutti quanti insieme verso l'aiuto, verso l'accoglienza di questa immigrazione. Dall'altra parte io credo che la comunità islamica può essere un ponte di incontro, di dialogo per dare il suo contributo a questa accoglienza. Quello che fa paura è la diversità e la povertà tutti e due insieme. Certamente quando c'è diversità con povertà è ancora di più questa paura purtroppo perché noi non lo conosciamo l'altro, non conosciamo il diverso e figuriamoci quando questo povero vuol dire che sta mangiando il mio piatto, sta prendendo il mio posto di lavoro. Allora per questo dobbiamo governare l'immigrazione, dobbiamo gestirla per non dare alibi a qualche realtà politica di usarla come strumento di paura e di non convenza e di non armonia.